Ho'oponopono praticamente è la conoscenza che tutto è uno e che l'uno è amore e perciò che tutto è amore. Da questo deriva inevitabilmente che tutto ciò che è, tutto ciò che accade, qualsiasi cosa è amore e essendo amore non può che essere perfetto. Da questa consapevolezza deriva anche la nostra totale responsabilità circa ciò che accade nella nostra vita. Tutto è uno. Noi siamo parte dell'uno, siamo l'uno, perciò non esiste altro responsabile se non io per tutto quello che accade nella mia realtà. L'integrazione di noi stessi di questi concetti dovrebbe darci veramente la serenità completa e la capacità di accettare tutto ciò che accade come la miglior cosa che potesse accaderci, la maggiore delle benedizioni che potessimo augurarci, come in effetti ogni cosa che accade è. Perciò praticare il poro poro non significa altro che riconoscerlo come un sistema per trascendere i conflitti, per perdonare la percezione delle energie coinvolte, riconoscimento e perdono che ci portano alla percezione consapevole della perfezione di tutto ciò che ci circonda. Il ruolo del perdono, d'altro canto, anche verso le situazioni o verso me stesso che le ho manifestato più o meno consapevolmente, si trova nell'aprire il mio cuore verso ciò che è stato, eliminando il giudizio su ciò che è stato dal mio essere. Se riesco a perdonare qualcuno o qualcosa o me stesso è solo perché in un momento di ispirazione animica sento e vedo e percepisco la perfezione e la bellezza di quanto è accaduto e realizzo che in verità non c'è niente e non c'è nessuno da perdonare proprio perché non esiste niente di sbagliato. Il cuore aperto è già oponopono perché oponopono non è un mantra da ripetere, questo è solo lo strumento, ma è piuttosto un vero e proprio stato di coscienza nel quale percepisco o mi predispongo a percepire la perfezione delle cose e questo stato di coscienza fa in qualche modo scomparire il mio desiderio di ottenere qualcosa di specifico per cui oponopono diventa un modo di vivere perpetuo e non l'espressione verbale di un determinato bisogno o di un desiderio o della convinzione che le cose devono evolvere, devono andare in un determinato modo. La consapevolezza della perfezione è la consapevolezza che io ho esattamente ciò che mi serve in ogni momento e quindi non ho proprio bisogno di chiedere nulla, ho solo bisogno di vedere ciò che ho, ciò che sono. Ne deriva che non esiste niente che io possa temere, non esiste nulla che mi possa fare paura in maniera veritiera, perché tutto ciò che accade è esattamente il meglio che mi possa accadere e il passo successivo è quello di accettarlo proprio come il meglio che è. Questo significa essere liberi dal passato e essere liberi dai timori e dalle paure, rendersi conto della reale situazione in cui mi trovo. Questa però mi rendo conto finché non riusciamo davvero a interiorizzarla e a viverla è solo una teoria, bella teoria ma pur sempre teoria inutile finché non diventa pratica. E la pratica alla fin fine oltre ad usare costantemente lo strumento di pulizia che abbiamo scelto di utilizzare, quale può essere il mantra di Ho'oponopono, quale può essere uno o qualsiasi degli strumenti che Ho'oponopono propone, la meditazione o qualunque strumento di allineamento e di riarmonizzazione interiore che qualunque disciplina proponga, la pratica alla fin fine dicevo è solo e soprattutto quella di cercare costantemente il bello nelle situazioni, che non vuol dire pensiero positivo a tutti i costi, che non vuol dire decidere che è bello quello che mi appare brutto, vuol dire sapere che anche in un fallimento, anche nella rabbia che il fallimento mi suscita, anche in un momento di crisi c'è una caratteristica di questa situazione, che è la caratteristica principale, che lavora per la mia evoluzione. Del resto però quando ci si trova in una prospettiva carica di aspettative spesso sembra che in una certa faccenda non ci sia proprio niente di positivo, ma di solito questo aspetto che non riusciamo a vedere si sta sempre preparando per apparire molto chiaramente, almeno che noi non continuiamo ad ostacolarne la nostra percezione, continuando a fissarci sulla convinzione che le cose dovrebbero andare come abbiamo deciso che dovrebbero andare. Purtroppo quando siamo ingabbiati in un vortice di nero, la caratteristica evolutiva, il bello nel brutto, non riusciamo a vederlo, per cui non ci crediamo ed emaniamo energia condensata in parole, pensieri, azioni e conseguenti fatti, neri, preoccupati, arrabbiati, impauriti. Più vedo nero, più sentirò, percepirò che tutto attorno a me è nero. Ma in verità non esiste mai qualcosa che non abbia una polarità opposta e complementare e che quindi non si diriga verso qualcosa di meglio o ancora più nello specifico verso qualcosa di evolutivo, verso l'espansione dell'amore. E quello che mi sento veramente di dire è che il segreto sta tutto nella consapevolezza che io, tu, noi, tutti quanti siamo perfetti esattamente così come siamo, come lo è la nostra situazione che viviamo e che abbiamo vissuto e che semplicemente ci sta portando a evolvere, a essere più consapevoli di chi siamo veramente. Quindi la prima cosa da fare è lasciare andare la convinzione che ciò su cui decidiamo di voler lavorare sia sbagliato e quindi di doverlo cambiare. La semplice consapevolezza di questo produrrà un cambiamento reale nella nostra vita. Cominciamo a dire di sì senza condizioni alla nostra vita e alla persona che siamo e alle situazioni che la vita e la persona che siamo ci propongono. I problemi si generano, le memorie si formano a causa della nostra incapacità di accettare la nostra perfezione e la perfezione della nostra vita. La nostra serenità dipende proporzionalmente dalla nostra capacità di accettare noi stessi in primis e tutta la situazione che noi stessi abbiamo manifestato perché la nostra realtà rimane sempre un riflesso della nostra interiorità. Il conflitto interiore, l'attrito con l'amore, la sofferenza traggono sempre origine dalle situazioni in cui non riusciamo ad accettare la perfezione delle situazioni stesse. Quindi ogni disagio esteriore deriva inevitabilmente sempre da un conflitto interiore. Abbiamo due sole possibilità, due vie da seguire. Continuare ad avere paura di perdere qualcosa o di aver perduto qualcosa o aver paura di lasciarci andare e continuare a soffrire. Oppure smettere di temere l'ignoto, di temere il futuro, consapevoli che niente può davvero farci del male perché tutto ciò che accade, accade per il nostro bene e che quello che è successo ce lo siamo attirato solo e soltanto noi con l'obiettivo di evolvere, di diventare comunque una persona migliore, di stare bene e di godere finalmente della gioia che scaturisce dalla citazione incondizionata della realtà.